Quando ho iniziato la mia esperienza qui in DBGA devo dire che sono rimasto molto colpito dal fatto che abbiamo iniziato a utilizzare sin da subito programmi e software che utilizzano all'interno del settore per poter sviluppare appunto videogiochi e applicazioni in particolare è anche il fatto che comunque abbiamo molte ore per poterli capire e imparare anche attraverso il laboratorio che facciamo qui a scuola abbiamo degli orari specifici